Wow! Baia Caracol è tanto nebbiosa! Non per molto! Sta a guardare! Ta-da! Marinai! Ammirate in tutto il suo splendore la mia pittoresca casa, Baia Caracol! Allora, che cosa ne pensate? Eh, carina! Sì! Fermi le molluschi! Dove sono i colori? Non capisco che cosa è successo! Lorelai! Lorelai! Siamo veramente felici di vederti! Mira, amiga! Guarda la nostra coda! Accidenti! Che sta succedendo? Ogni cosa nella Baia sta perdendo il suo colore! Comprese noi! E abbiamo anche tanto, tanto sonno! Chissà se dipende da questa sostanza melmosa! Cannocchiale! Raggi X! Acqua sporca! Anche i pesci e i coralli stanno perdendo colore! Bussola, qual è la causa di questo problema? La melma proviene da quella nave! Dobbiamo fermarla! E anche in fretta! L'avventura ci aspetta, Anigos! Tirata su amori! Tavoli! Accidenti! Non riesco a controllare il bravo! Le onde sono scivolose! Caracole su! Tomas! Dobbiamo rallentare! Bravo! Frena! Che sfortuna! Non funziona! Che asemus? Primo! Già sei, Tomas! Usiamo l'ancora per fermare il bravo! Bravo! Tira ancla! Ce l'abbiamo fatta! Uepa! Nave in vista! Una nave pirata! Un solo pirata possiede una nave così sfarzosa! Enrique Real de Palacios! Terzo! Cannocchiale! Super zoom! Enrique ha a bordo uno strano aggeggio che sta rilasciando in mare parecchia melma! Chissà dove va a finire quel condotto! Cannocchiale! Raggi X! È una trivella gigante! Oh no! Sta dissotterrando l'oro! Enrique sta tirando fuori l'oro dal fondale oceanico! Bisogna impedirglielo! Fermerò Enrique e il suo strano aggeggio! Voi due arginate la melma e non fatela espandere! Ai ai capitano! Vamos piratas! Fermerò Enrique! Fermerò Enrique! Fermerò Enrique! Adesso basta, Melma! Ma guarda chi c'è! Santiago il bravo pirata e il suo fedele girino! Adesso smammate! Non vedete che sono a caccia del tesoro! Ehi! Sono un genio! Ratosito smasso rapido! Rattosito smasso rapido! La melma gocciola ovunque e danneggia le sirene e le creature marine di Baia Caracol! Ma alimenta il congegno succhi a oro! Devi fermarlo subito! Ti prego! No! Tu devi fermarti! Fa attenzione! Potresti scivolare! C'è troppa melma! Chissà se riusciremo a mandarla via! Ci penso io! Col braccialetto in mio aiuto il sirena mi tramuto! Già! Questo funziona sempre!